Musica Polemiche e crisi politiche restano a casa. Battipaglia scende in piazza compatta per dire no al sito di compostaggio. Doveva essere la passeggiata verde dei bimbi. In poco tempo è diventata la prova generale di quella che sarà la vera e propria manifestazione di protesta in programma giovedì. I battipagliesi hanno ritrovato l'unità contro il sito di compostaggio ed hanno affollato le strade cittadine. Un fiume verde è quello dei piccoli battipagliesi che hanno aperto il corteo. Un fiume di persone è quello che li ha seguiti. Le divergenze sull'organizzazione e sulle modalità di protestare contro il sito di compostaggio nello stir hanno lasciato il passo a quella che è la volontà del popolo di Battipaglia. Durante il corteo non sono mancati balli e cori che hanno alleggerito l'attenzione accompagnando il lungo corteo che ha seguito l'itinerario programmato nei giorni scorsi e ha rafforzato la volontà e l'unione di tutta la cittadinanza. Un flash mob dei ragazzi delle scuole medie per dire no al sito di compostaggio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 30 onorificenze al merito della Repubblica italiana cittadini e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella promozione della cultura, della legalità e per il contrasto alla violenza. Tra questi anche la battipagliese Umberta, detta Bettina Basso, 77enne, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, per la sua opera trentennale di testimonianza e sensibilizzazione sul valore della prevenzione nella cura dei tumori femminili. Il presidente di Amdos, Associazione Meridionale Donne Operate al Seno, ha iniziato quasi trent'anni fa la sua opera di sensibilizzazione tra le donne delle province di Salerno, Napoli e Avellino, sottolineando l'importanza di sottoporsi ad esami diagnostici quali mammografie ed ecografie. Oggi in Campania operano 16 sedi dell'Associazione Amdos con i loro ambulatori che informano le donne e poi le seguono durante le fasi della prevenzione, del follow-up e dell'assistenza psicologica. Precipita la raccolta differenziata ad eboli. Nonostante l'ampliamento del porta a porta anche alle periferie, i numeri di rifiuti differenziati sono in calo. Il gruppo del PD ha presentato su questo un'apposita interrogazione consigliare per avere i dati della raccolta differenziata ad eboli. È dal 2008 che è stata avviata nel nostro comune la raccolta differenziata porta a porta, raggiungendo in pochissimo tempo risultati apprezzabili, fino a sfiorare il 50%, sostiene Infante. Ma i dati della raccolta differenziata registrati oggi sono poco confortanti, sia in termini di qualità del servizio che in termini quantitativi. Infatti, continua Pasquale Infante, nonostante l'allargamento alle periferie, non raggiungiamo nemmeno il 50% di raccolta differenziata e siamo per questo al di sotto della media regionale, che è al 60%. Veniamo superati in questo abbondantemente anche dai comuni vicinori, molti dei quali hanno avviato la raccolta dopo di noi, sottolinea Pasquale Infante. Errori dopo errori, i nostri amministratori nulla hanno fatto per incrementare le percentuali e nulla hanno fatto o fanno per il relativo completamento del ciclo dei rifiuti. Per questo, come gruppo del PD, abbiamo presentato un'apposita interrogazione consigliare. Da oggi, fino al 25 novembre, torna Tirana, Giffoni, Albania, che coinvolgerà 4.000 ragazzi tra i 13-18 anni, quali valuteranno una selezione delle migliori opere in concorso nelle passate edizioni del Giffoni Film Festival. Dopo quattro giorni nella capitale, l'evento si sposterà nelle città di Durazzo e Scutari, coinvolgendo altri 5.000 giovani. Dal 2005, spiega Nico Aiazzi, direttore di Giffoni Albania, abbiamo coinvolto oltre 100.000 ragazzi in varie città del paese. Giffoni, sottolinea invece il direttore del Giffoni Experience Claudio Gubitosi, è stata la prima realtà culturale al mondo a visitare l'Albania nel lontano 1984, ancora in regime dittatoriale, presentando e promuovendo il cinema di questo bel paese, così vicino ma completamente sconosciuto. Da quell'anno non abbiamo mai smesso di collaborare e cooperare da 11 anni, impieghiamo energie, passione e professionalità per dare vita al festival. Italiano a Napoli è la nuova commedia musicale di Salda Vinci e sarà sul palco del Cinema Teatro Italia, uno spettacolo che è una riflessione sulla nostra identità di napoletani, di italiani, di cittadini della Repubblica dei Sentimenti, che poi, in fondo, nei sentimenti la sua canzone ha sempre abitato, proprio lì, tra passione e sentimento. Ogni passaggio è lo spunto per una riflessione, un aneddoto, uno sketch, ogni canzone è la tessera di un affascinante puzzle, uno spettacolo che diverte, grazie ai guizzi comici di Davide Marotta e Lello Radice, affascina con la talentuosa Lorena Cacciatore, commuove e fa riflettere. Un viaggio suggestivo e incantato, quindi, che grazie alla prodigiosa voce di Salda Vinci fa vibrare ancora una volta le corde del cuore. Centomila, voci insieme fidano dentro me, Davide Marotta e Lello Radice, centomila, mani si toccano e scrivono, io sono Salda Vinci, un italiano di Namo. A presto, a presto. Grazie a tutti.